cena alla macelleria locale chiuso per cinque giorni interviene il sindaco domani manifestazione in piazza del popolo targata conf commercio le anticipazioni covid 19 28 nuovi positivi in provincia di pesaro riaperto in punto tamponi didattica distanza liceo marconi lezioni in presenza solo per quattro materie benvenuti questo è il telegiornale di martedì 27 ottobre sul canale 633 con l'informazione aggiornata questa sera apriamo questa nostra edizione parlando chiaramente del caso che ha fatto rumore anche a livello nazionale riguardante la cena che si è tenuta ieri sera presso il locale la macelleria del ristoratore umberto carriera il fatto avvenuto dopo la manifestazione organizzata sempre dallo stesso carriera e che vi abbiamo anche raccontato nel nostro telegiornale di ieri ha comportato la chiusura del locale per cinque giorni con possibile proroghe imposte da questura e prefettura come ci ha spiegato il sindaco matteo ricci in questo primo servizio di daniele romagna cinque giorni di chiusura immediata imposti dalla polizia municipale che potrebbero aumentare in base alle decisioni che questura e prefettura indicheranno si è conclusa così la cena che si è svolta ieri sera nel ristorante la macelleria del ristoratore umberto carriera al termine della manifestazione che sempre ieri in via branca e in piazza del popolo ha contato centinaia e centinaia di partecipanti due momenti distinti che hanno animato nella serata di ieri il centro storico pesarese da una parte le voci scese in piazza delle diverse categorie protagoniste delle restrizioni previste nell'ultimo dpcm per il quale il sindaco matteo ricci si è detto subito disponibile ad incontrare una delegazione di lavoratori dall'altro il post manifestazione la cena di protesta che ha suscitato un forte rumore mediatico anche a livello nazionale e raccolto diverse voci contrarie netta sull'accaduto la posizione del primo cittadino perché in piazza ieri c'erano in gran parte persone molto preoccupate del proprio futuro arrabbiate preoccupate per i loro dipendenti e quindi è una piazza che va ascoltata e non a caso da oggi inizieremo gli incontri con le delegazioni inizieremo con la parte dei ristoratori poi andremo con la parte sportiva della danza poi con la parte degli operatori culturali dello spettacolo quindi abbiamo diviso almeno in tre riunioni gli incontri per per ascoltare al tempo stesso come sindaci abbiamo chiesto da subito indennizi immediati oggi c'è il consiglio dei ministri che stanzierà diversi miliardi per indennizi immediati alle attività più colpite in questo mese di chiusura che si è aperto ieri e quindi occorrono risposte immediate e ascolto perché è evidente che ci sono delle categorie molto molto preoccupate ogni piazza che si esprime pacificamente va ascoltata e in qualche modo anche se sono questioni nazionali non comunali come sindaco come amministrazione come giunta cercheremo di capire quali sono i problemi di sollecitare il governo sulle risorse e vedere se eventualmente possiamo fare qualcosa in più anche noi. La buffonata fatta alla macelleria ha compromesso l'immagine di una manifestazione pacifica i diritti e le rimostranze di tanti ristoratori baristi gestori di palestre che erano venuti a manifestare un disagio legittimo è stata una buffonata molto grave molto grave perché a pesero le leggi si rispettano a maggior ragione durante la pandemia molto grave perché ha messo a repentaglio anche la salute credo di molte persone perché non c'erano mascherine mi pare che dalle immagini che che ho visto c'erano anche problemi di sicurezza e non si affronta con sfacciataggine in quel modo le istituzioni e le forze dell'ordine anzi fatemi fare i complimenti al questore al prefetto alla polizia municipale perché hanno gestito con grande intelligenza la chiusura del locale che è stato chiuso evitando scontri evitando collutazioni fisiche come abbiamo visto in altre città però sono provocazioni molto gravi e io ho chiesto da subito il pugno duro perché cose del genere non devono capitare innanzitutto per rispetto dei tanti che ieri di tutti gli altri che ieri hanno chiuso hanno rispettato le regole hanno rispettato la legge e non vanno in giro a fare buffonate pericolose come sono state fatte alla macelleria per per un po di pubblicità personale si è buttato discredito su una categoria che non lo merita e al tempo stesso si è fatta una cosa molto 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 pericolosa quindi ho chiesto il pugno duro e hanno fatto un ottimo lavoro il locale è stato chiuso non è chiuso solo per cinque giorni con qualcuno ha detto questa è la chiusura immediata che possono fare che può fare la polizia municipale adesso la palla passa al prefetto e questore e staranno loro definire quali sono le diciamo i reati commessi le punizioni di conseguenza le le sanzioni e o le ripercussioni penali alle quali il titolare del locale e forse anche i partecipanti andranno incontro a replicare al sindaco alle misure prese dalla polizia e alle voci in contrasto con l'organizzazione della cena per la non osservanza delle misure di sicurezza è stato lo stesso carriera che questa mattina si è recato presso il proprio ristorante sul quale era presente il sigillo di chiusura posto dalla polizia municipale l'impressione che abbiamo fatto la scelta giusta ripeto ho letto tante cose sono stato contattato tante persone che ci appoggiano ma anche altre persone che non sono d'accordo quello che voglio dire che noi abbiamo fatto tutto assolutamente nel rispetto delle norme vigenti ripeto oggi a pranzo si potrebbe lavorare si potrebbe tenere aperto si potrebbe dare da mangiare 90 persone esattamente come abbiamo fatto ieri rispettando i protocolli rispettando le distanze rispettando la capienza massima ripeto perché non si possa fare a cena siamo di fronte ad un problema sanitario grandissimo ma siamo di fronte ad un problema sociale ed economico ancora più grande la legge va rispettata ma anche la costituzione va rispettata siamo un paese fondato sul lavoro e non ci permettono di lavorare ripeto negli ultimi nove mesi sono stati emanati credo una ventina di dpcm e li abbiamo sempre rispettati la categoria dei ristoratori la categoria dei baristi la categoria delle palestre delle piscine tutto è stato rispettato e stiamo lavorando in assoluta sicurezza ripeto non si parla di buffonato quant'altro io metto la mia faccia il mio locale la mia attività il mio denaro per tutelare tutte le persone tutti gli imprenditori e domani mattina alle ore 11 ci sarà una nuova manifestazione in piazza del popolo questa volta però organizzata dalla conf commercio con le voci di tutte le categorie colpite dall'ultimo dpcm e in queste prossime interviste vedrete le voci di alcuni dei protagonisti che domani scenderanno in piazza domani alle 11 dall 11 alle 13 tutti in piazza chiaramente nel classico rispetto di tutte le regole anti covid e quant'altro sarà assolutamente una manifestazione pacifica una manifestazione organizzata una manifestazione nella quale abbiamo preparato delle sorprese quindi diciamo che non stiamo a dire tutto quello che succederà domani una manifestazione aperta a tutti e tutte le categorie a tutti i cittadini a tutti quelli che si sentono minacciati o che ci vedono minacciati dalle nuove regole una manifestazione in cui chiediamo più chiarimenti rispetto al dpcm e l'unica cosa che chiediamo a tutti i partecipanti e di venire vestiti da lavoro quindi cuochi con le parananze come insomma datevi aprite la fantasia portate qualcosa per far rumore fischietti trombe trombette e con la voglia di cambiare soprattutto chiediamo di venire una prima protesta che chiaramente non non è stata organizzata con noi quindi noi ogni ogni manifestazione sempre venne accetta basta che sia fatta con dei criteri insomma quello che è successo ieri in parte secondo noi non è una cosa giusta bastava semplicemente organizzarsi un pochino meglio e collaborare ecco e quindi ci dissociamo dalla non dalla manifestazione ma dall'organizzazione della manifestazione che è avvenuta ieri e domani in piazza cercheremo di fare una cosa ordinata corretta ma dove si chiedono chiaramente delle risposte per quello che sarà il futuro perché sia le attività che gli esercenti che le persone hanno diritto di sapere dal governo quali sono insomma come dobbiamo procedere se dobbiamo camminare se ci dobbiamo fermare che cosa succederà perché non è chiaro neanche a noi c'è questo dpcm è assolutamente un punto di domanda e vi ricordo che domani a partire dalle 11 in diretta su Rossini tv canale 633 ma anche sulla nostra pagina facebook avrete in esclusiva tutte le immagini della manifestazione appunto che si terrà in piazza del popolo da pesaro ci spostiamo a fano per ora in questo caso non è stata organizzata nessuna manifestazione di protesta ma le nuove misure anti contagio hanno provocato la rabbia di diverse categorie tra cui ristoratori titolari di palestre e anche di scuole di danza il prossimo servizio di simone celli i tavoli vuoti le macchinette spente le grandi sale occupate soltanto dal silenzio è lo scenario delineato dall'ultimo dpcm che tenta di contenere la curva del contagio da covi 19 ma intanto ha svuotato ristoranti palestre e non solo i primi sono costretti ad abbassare la sala ciniesca già dalle 18 e anche se a fano la protesta non sia ancora fatta plateale il malcontento è senz'altro nell'aria noi ci siamo adeguati a tutto e adesso ci viene chiesto di chiudere perché in poche parole questo è una chiusura anticipata alle 18 per i ristoranti vuol dire chiusura totale cosa sbagliatissima perché di base non siamo noi gli untori non siamo noi ristoratori noi ci siamo adeguati a tutto chi sta da noi sta a distanza sociale di un metro l'uno dall'altro sta seduto e non ancora nessun rischio il pericolo secondo me invece è un altro è quello delle strade che non vengono controllate quello dei mezzi di trasporto dove ci sono persone ammassate cioè noi chiudiamo alle 6 come settimana scorsa abbiamo chiuso le 24 ma se facevate un giro in centro storico piuttosto che in altre zone subito dopo potevate trovare tranquillamente centinaia di persone una sopra l'altra senza mascherine quindi il problema non è dentro i locali ma fuori se lo stato chiede un sacrificio per la salute pubblica noi siamo i primi ad essere a favore siamo i primi a fare il sacrificio però come chiedi un sacrificio non lo devi rendere vano devi far sì che dopo per rispettare altre regole come il distanziamento fuori dai locali e in giro quindi un coprifuoco vero io chiudo le 18 ma stanno a casa tutti alle 18 non deve essere un sacrificio solo del ristorante e soprattutto lo stato come buon padre di famiglia chiede un sacrificio non c'è da mangiare le bistecche per tutta la famiglia c'è solo da mangiare pane cipolla bene noi facciamo il sacrificio ma tu quel pane cipolla ce lo devi garantire noi abbiamo delle spese fisse tutti i mesi che sono affitti bollette stipendi fornitori noi tutte queste cose qua quelle che sono le spese base dell'attività tu ce le devi garantire stop totale invece per palestre e centri fitness dove da mesi erano già state adottate le varie misure anticontagio questo dpcm punisce un intero settore che è quello dello sport che nella prevenzione della patologia da coronavirus secondo me strategico anche perché andiamo a prevenire quelle che sono le complicazioni che porta proprio la sindrome da coronavirus quindi tutte le problematiche respiratorie e infiammatorie che ne comporta ma anche perché siamo all'interno di strutture che nel in osservazione alle varie istruzioni che ci sono arrivate hanno cercato di adeguarsi a quelle che sono il distanziamento sociale e tutte le norme di igienizzazione tant'è che abbiamo adeguato tutta la struttura con distanziamento tra i vari attrezzi disposto dei dispenser con delle soluzioni disinfettanti per pulire tutte le aree che sono state utilizzate e i sistemi di igienizzazione all'ingresso e nonostante questo nonostante l'importanza che viene data allo sport a livello scientifico ci troviamo di fronte dei ministri che mettono non tanto un settore ma proprio l'attività motoria come qualcosa di opzionale a qualcosa di cui si può fare a meno ed è questa la cosa non tanto deludente per la chiusura ma è sconcertante proprio e non ci si può credere veramente non soltanto aerobica e manubri benessere ed esercizio fisico possono anche diventare una vera e propria forma d'arte come nel caso della danza anche qui scuole chiuse aule deserte e punte appese al chiodo già arriviamo da sei mesi di chiusura forzata quindi con tutte le difficoltà economiche che comporta e abbiamo fatto un grosso sforzo per adeguarci in tutto e per tutto anzi forse più di quello che era richiesto dal protocollo a tutte le misure di sicurezza quindi questo è un ambiente sano sanificato le ragazze sono distanziate le classi sono contingentate la danza classica purtroppo forse non è stato considerato nel decreto per mancanza di conoscenza di cosa sia si può svolgere tranquillamente senza contatto quindi non riusciamo a capire come mai ci sia stato dato questo stop ulteriore si segue un protocollo accuratissimo vengono sanificate le mani all'ingresso cambiate le scarpe igienizzate le scarpe misurata la temperatura la mascherina viene tenuta sempre anche all'interno della classe negli spostamenti abbassata solo quando lavorano a terra negli spazi predefiniti o alla sbarra noi insegnanti facciamo cinque ore di lezione con la ffp2 più di così io non credo che sia la danza il problema al di là del discorso economico vedo che purtroppo si va sempre a togliere ai giovani ai ragazzi gli togliamo una una realtà sana dove comunque sono sotto controllo per lasciarli in casa nella migliore delle ipotesi davanti a un cellulare oppure se l'età consente in giro da soli con altri amici perché tanto poi questa è la realtà senza controllo in questo prossimo servizio vedrete l'andamento del numero dei nuovi contagi da covid 19 chiaramente l'aggiornamento che ci arriva dalla regione marche in modo particolare parlando della provincia di pesaro urbino è tornato tra l'altro attivo da sabato il punto tamponi in strada dei cacciatori il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.705 tamponi 1528 nel percorso nuove diagnosi e 1177 nel percorso guariti i positivi sono 380 nel percorso nuove diagnosi e di questi 28 provengono dalla provincia di pesaro urbino tra i dati principali indicati dal numero regionale dei nuovi positivi risultano essere 45 i soggetti sintomatici 91 i casi rilevati in setting domestico e 99 i contatti stretti di casi positivi 2 i decessi registrati ieri dal servizio sanità della regione un 67enne ed un 85enne entrambi con patologie pregresse e residenti nella provincia di ascoli piceno rimane stabile a 6 il numero di pazienti nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale marchenor di pesaro che si sommano però ai 19 ricoveri della subintensiva e ad altri 19 nei reparti di ostetricia e malattie infettive e per intensificare il numero dei tamponi da sabato scorso è tornato attivo in strada dei cacciatori il checkpoint guariti che si va ad aggiungere le strutture di fano e di rubino 90 le persone che proprio sabato hanno effettuato il tampone tra cui anche personale scolastico e ragazzi che erano appunto in attesa di effettuare il test cittadini non possono rivolgersi come direttamente al punto tamponi chiedendo appunto di fare il tampone ma la richiesta deve sempre essere fatta dal medico di base che appunto invia la richiesta ad asus e poi sarà direttamente a contattare le persone interessate ea a dare l'appuntamento è un sicuramente un ulteriore risposta importante il punto di pesaro di via dei cacciatori è un riferimento per l'intera valata del foglio e soprattutto devo dire la verità per la bassa valata del foglio e essere riusciti a riaprirlo è sicuramente una cosa molto importante ed è un risultato che è stato possibile grazie alla collaborazione tra asuro comune di pesaro e la provincia perché come di pesaro ha messo a disposizione l'area la provincia ha messo a disposizione un container di tipo abitativo molto utile soprattutto il personale medico infermieristico che aveva bisogno di un punto di appoggio e all'asuro ovviamente per aver trovato messo a disposizione il personale in particolar modo medici infermieri che stanno tenendo aperto il punto tamponi da questa settimana è previsto un'apertura per tre giorni a settimana ovviamente l'orario di apertura potrà aumentare in base a quelle che sono le esigenze l'intera amministrazione comunale ha espresso questa mattina il proprio cordoglio per la scomparsa di benedetto pansini questore a pesaro dal 2006 il primo cittadino ha ricordato l'importante collaborazione quinquennale e l'impegno di pansini come difensore civico a garanzia e tutela dei cittadini e come ormai sapete tra le misure di questo nuovo dpcm si parla anche di scuola e di didattica a distanza al 75 per cento per tutti gli istituti superiori una misura a cui il liceo scientifico marconi ha risposto aumentando il numero di ore di lezione da effettuare in streaming con la presenza in classe richiesta per seguire soltanto alcune materie ci ha spiegato tutto ciò meglio il preside riccardo rossini siamo andati al 100 per cento con la didattica a distanza a casa questo perché 75 80 90 95 sinceramente ci sembrava quasi una complicazione inutile per i docenti e per gli studenti sembra sia più semplice così e abbiamo adottato questo però con la possibilità di tornare in presenza per le prove di verifica infatti abbiamo una modularità di tre settimane due settimane didattica a distanza una settimana di verifiche facendo venire il lunedì le prime il martedì le seconde così via è una soluzione in divenire nel senso che si aspetta il termine assolutamente sì assolutamente sì diciamo che una navigazione a vista purtroppo nella nebbia più fitta la valutazione da parte anche del comparto dei centi su questa nuova misura come è stata valutata ma è un'animità diciamo perché il collegio di docenti ha capito perfettamente la gravità della situazione e pensa che in questo modo si possa portare come scuola un contributo alla diminuzione del contagio della trasmissione del virus diciamo che il nostro contributo come scuola alla situazione generale che non è assolutamente semplice anzi direi quasi drammatica nei numeri quattro materie quindi che le classi dalla prima alla quinta potranno svolgere in presenza come mai si è deciso di affrontare queste quattro materie in presenza ma semplicemente perché sono poi le materie che vengono anche richieste l'esame di stato per cui ci siamo riferiti a quelle non diciamo in tutto il percorso scolastico queste quattro materie hanno sicuramente sempre la verifica scritta e quindi le abbiamo come dire determinate fermate lì e per quanto riguarda anche gli altri indirizzi del liceo marconi come si adeguano a questo nuovo dpcm beh ovviamente il musicale in maniera diversa avendo un rapporto uno a uno fra insegnante studente nelle ore di strumento è chiaro che queste vengono fatte in presenza stessa cosa vale per l'attività di laboratorio del coreutico cioè di danza ma lì non dobbiamo avere non dovremmo avere nessun tipo di problema perché abbiamo spazi ampi quindi sicuramente ci siamo rette dei servizi educativi ridotte al 30% in caso di assenze per almeno sette giorni di calendario scolastico per isolamento o quarantena dei bambini ad annunciare l'iniziativa è l'assessore alla crescita giuliana cecarelli l'intervento prevede una riduzione del 30% sulla quota fissa mensile per le scuole dell'infanzia statali e comunali e una riduzione del 30% sulla retta complensiva dei nidi ad eccezione di chi già paga la tariffa minima la manovra prevede un risparmio medio per le famiglie in caso di assenza per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione o da altri soggetti che varia da 15 a 20 euro per usufruire dell'agevolazione valida per l'intero anno scolastico 2020 2021 è sufficiente inviare un'email all'indirizzo protocollo chiocciolacomune.pesaro.pu.it allegando la documentazione che attesti l'assenza per isolamento o quarantena inaugurata la nuova sede del rettorato di urbino che torna in via saffi al termine dei lavori di ristrutturazione di palazzo buonaventura presto anche la direzione generale avrà nuova collocazione sullo stesso piano un risultato definito straordinario dall'ex rettore vilberto stocchi presenti alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi insieme al prefetto di pesaro urbino vittorio lapolla il nuovo rettore giorgio calcagnini il sindaco di urbino maurizio gambini e diverse altre autorità ed ora ci spostiamo a talacchio perché da qualche giorno è stata presentata la neonata associazione diversamente per la tutela e la valorizzazione della vallata del foglia sono sette i fondatori e un centinaio gli iscritti come ci spiega andrea sabatini in questo prossimo servizio nemmeno la pioggia ha fermati i cittadini di valle foglia quest'oggi qua presenti per la presentazione di una nuova associazione diversamente i cittadini di valle foglia non si schierano né contro né a favore le biodigestore questo il tema principale della giornata e della riunione chiedono soltanto di avere un po di chiarezza dopo anche le notizie le informazioni che sono uscite cittadini di valle foglia che ci sono qua riuniti hanno mantenuto le distanze di sicurezza hanno tutti indossato la mascherina nella riunione pacifica che adesso andremo a sentire i protagonisti la nostra associazione che si chiama diversamente è stata costituita con l'intento di valorizzare e tutelare da un punto di vista ambientale culturale e anche storico questa vallata dove viviamo e anche i centri abitati presenti abbiamo avuto un'accelerazione in questo processo a seguito delle informazioni ricevute dagli organi di stampa relativamente all'argomento biodigestore e abbiamo ritenuto nostro dovere informarci come cittadini e riteniamo anche un diritto nostro inalienabile quello di essere informati su un argomento così importante ed anche impattante per la nostra qualità della vita attuale e futura proprio per questa esigenza di essere informati abbiamo inviato nei giorni scorsi una PEC al comune di Vallefoglia alla provincia di Pesaro Urbino e a Marche Multiservizi anche se il sindaco di Vallefoglia ripetutamente in diverse sedi ha ripetuto che non esiste nulla di ufficiale ma noi siamo interessati molto interessati anche la parte ufficiosa che riguarda questi progetti per poter essere in grado di valutare le opportunità o le minacce i punti di forza i punti di debolezza per avere un confronto sereno una volta che le informazioni siano disponibili a tutti i soggetti e noi vogliamo essere un soggetto attivo di questa decisione il servizio completo lo rivedrete poi nel nostro Vallefoglia magazine che come ben sapete in onda su Rossini tv tutti i venerdì alle ore 19 e in queste altre repliche appunto che potrete rivedere poi sulla nostra emittente mentre questa sera torna un nuovo appuntamento con i luoghi della bellezza vi rifacciamo vedere due puntate una dedicata al al conservatorio di Pesaro conservatorio importantissimo e l'altra puntata è dedicata alle biblioteche della città di Pesaro il tutto a partire dalle 21 e 15 e io vi ricordo anche che giovedì alle 21 e 15 in prima serata parte la prima puntata di insieme a canestro ve l'abbiamo raccontato in questi giorni in diversi in diverse occasioni insomma un nuovo programma dedicato alla VL Pesaro basket alla carpegna prosciutto quindi seguiremo tutto il campionato con commenti e ospiti in studio per cercare insomma di raccontarvi al meglio questa importante squadra di basket adesso per voi il meteo vi ricordo che ci ritroviamo qui alle 7.20 domani in diretta con la nostra rassegna stampa buona serata iscriviti al canale